Remo Live, San Remo Live, tutto sul festival della canzone italiana, in diretta dalla Città dei Fiori, interviste, curiosità, news, spettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno, San Remo Live. Perché San Remo è San Remo. Mamma mia, io passeggio e poi mi incontro lui. Buonasera, buonanotte, buongiorno. Beh, siamo tra il buongiorno e la buonanotte, tra la buonanotte e il buongiorno. Allora, io pensavo di trovarti un po' giù di morale, perché, insomma, è stato eliminato e questo porta bene a San Remo, su questo non abbiamo dubbi, invece abbiamo un amore, ma, con una certa filosofia. Sì, 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 sono con una certa filosofia perché ero insieme ai miei musicisti, che sono anche i miei amici, che sono a Guertamati, al basso e Massimo Marche, che sarà chiaro, anzi, coglierei l'occasione per chiamarli in campo, vai. Eh, se vogliono venire, assolutamente, siamo qui. Eccoli, eccoli, eccoli che arrivano. Siamo ancora tutti vestiti da scena, infatti. Facciamo vedere perché, ecco, lui si è presentato così. Siamo solo coperti, anche loro siamo solo coperti. E quindi niente, noi eravamo qui, siamo stati prima cacciati fuori a calci in culo dal festival Una votazione Una votazione che poi cambierà Esatto, cambierà E poi dopo siamo a tiria in un posto, abbiamo bevuto un po' Adesso più o meno tutto è tornato dritto, è tornato per il verso giusto Quindi non saremo positivi alla fine, possiamo dire, dai? Comunque sì, comunque è stata un'esperienza formativa E io sono orgoglioso di averla fatta e di essere qui ancora adesso Beh, adesso io direi che dobbiamo pensare a quello che è il progetto futuro Cosa ci aspettiamo da Braschi? Da Braschi ci aspettiamo che esce il disco il 10 febbraio E sarà un disco che spero avrà la vita più luminosa possibile E potrà vivere da solo Ok, facciamo così, un saluto così poi tu te ne vai a fare un po' di divertimento Vai, prometto Allora, iniziamo con Merito TV Un saluto agli amici di Merito TV E invece un saluto a Radio Studio 95 Anzi, manda tu il pezzo Io mando prima di tutto un saluto a Radio Studio 95 E poi devo mandare un pezzo Io mando il mio pezzo perché sono assolutamente egocentrico ed egoriferito E quindi vi mando nel mare ci sono i coccodrilli Che è di Braschi Che sono io E rifacciamo a Merito TV, mi sa? Vi mando un saluto da Merito TV Io sono Braschi, ciao